Viene costruito un arcipelago di 300 isole a 4 chilometri dalla costa, 300 isole artificiali che, viste dall'alto, formano il planisfero, il mondo. Che tamarrata! E chi ha avuto l'idea di costruire queste 300 isole artificiali? L'unico di Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Sei mesi per imparare sto nome. E come ha fatto Mohammed bin Rashid al-Maktoum? Perché una volta che l'ho imparato lo dico almeno due volte. Devo ammortizzare. Come ha fatto Mohammed bin Rashid al-Maktoum? Mohammed bin Rashid al-Maktoum? A costruire... Questa era proprio... Dicevo, come ha fatto Mohammed bin Rashid al-Maktoum a far costruire questo arcipelago di 300 isole artificiali? Ha fatto spostare tonnellate di pietre poggiate su milioni di metri cubi di sabbia dragata dal mare? Ci ha sconvolto tutto l'ecosistema della zona. Neanche il tempo di piantarci l'ombrellone e le isole stanno affondando. Scusa Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Ma che sabbia ha usato? La sabbia del gatto. Però io vi dico la verità. A me Mohammed mi fa più simpatia dei tedeschi. Perché lui ha voluto esagerare. Perché lui è terrone come me. E noi siamo esagerati. Noi esageriamo tutto. E lui ha voluto esagerare. Non è che si è fatto la statua a forma di Mohammed bin Rashid al-Maktoum al centro della piazza. No, 300 isole voglio! Cioè è esagerato. In più lui c'ha l'aggravante. Perché è terrone con i soldi. Che è il massimo della creatività. Ma noi esageriamo cose che a un torinese non gli verrebbero mai in mente. Cioè per esempio noi abbiamo inventato la figura della prefica. La prefica è una donna che ai funerali piange, si sciappi i capelli e si butta a terra per un morto che manco sa chi è. Perché il funerale deve essere esagerato. Che i parenti se ne devono andare via contenti. L'uscita della chiesa, voi come la fate? Gli sposi che escono dalla chiesa come la fa? Triste. Uscite con quattro cocci di riso, due petali di rosa, ma per cortesia. Noi abbiamo inventato l'uscita dalla chiesa degli sposi, coreografata. Gli sposi a braccetto si avviano verso la scalinata. Perché se non c'è la scalinata non mi ci sposi in chiesa. Lei vestita da meringa. Con un gazebo in testa. Pieno di uccelli. Lui vestito da zorro. Arrivano davanti la scalinata e si danno un bacio. Quello è il segnale per i parenti. A quel punto i nipotini cominciano a lanciare il riso con la cattiveria. Cercando di colpire in faccia lo sposo. Perché lo odiano tutti. Le zie fanno volare le colombe. E gli zii sparano i fuochi d'artificio. L'importante è sincronizzare bene i parenti. Perché altrimenti rischi il finale con la colomba flambè. Che è di cattivo auspicio per gli sposi. Ebbè. Ma noi riusciamo ad esagerare cose che voi non ve lo potete immaginare a Torino. Guarda, veramente. Io mi sono resa conto di esagerare nelle pulizie di casa a Milano. Me ne sono resa conto. Perché noi parliamo di pulizia, facciamo pulizia tutto il giorno. Invece il milanese.